Piano integrato, si parla di urbanistica per Pescara, si parla di fondi e soprattutto di strutture per il futuro. Nel corso di questi anni abbiamo messo in atto interventi con fondi non solo comunitari ma anche con fondi privati per far cosa? Una rete di connessioni, diciamo, infrastrutturale e non solo di tipo urbanistico ma anche di tipo sociale. Quindi partendo dai pisu della strada Pendolo alle rampe del Ponte Capacchietti fino ad arrivare al Ponte Nuovo tutta una serie di infrastrutture che oggi trovano la sintesi attraverso anche questo racconto previsto nei finanziamenti proprio comunitari per dare il significato, il senso di che cosa è Pescara con l'utilizzazione di queste risorse. In questo resoconto poi si tiene in considerazione anche di quelli che sono i progetti che ancora hanno qualche ostacolo? Questo è un punto che noi mettiamo per poter lanciare lo sguardo anche in avanti, capire che cosa bisogna fare ancora per rendere questa città, come ho detto, che è molto dinamica ma è anche accessibile nel senso che è fruita da tante migliaia di utenzi che vengono da fuori del territorio comunale. Quindi non solo ciò che è stato fatto ma anche in prospettiva ciò che dobbiamo realizzare. Questa è l'ambizione anche di un'amministrazione che si pone alla guida di una città e lo fa sapendo di avere a disposizione un patrimonio ma anche di doverlo arricchire.